40 anni di storia e un orgoglio tutto pugliese in Fiera dell'Evante a Bari c'è anche Cobar, azienda Altamurana specializzata nel settore del restauro. Oltre 40 anni di storia, più di 500 progetti, l'arte di restituire futuro al passato. Tra le realtà presenti al Salone del Restauro in Fiera dell'Evante a Bari c'è per la prima volta Cobar, azienda altamurana leader nazionale di restauri artistici. Oltre 300 tra operai e tecnici specializzati in costruzioni e ristrutturazioni effettuate con impianti ad alta tecnologia sulle più grandi e importanti infrastrutture del paese. Grazie al lavoro di Cobar tornano visitabili gli ambienti ipogei del Colosseo a Roma, un certosino lavoro lungo 811 giorni e quasi 56 mila ore, mentre sulla facciata della reggia di Caserta riemergono i colori del Van Vitelli. Completamente recuperato il Palazzo Cittario a Milano, dopo 45 anni di tentativi e ancora il Parco archeologico di Siponto nel Foggiano, il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, sono soltanto alcuni dei lavori realizzati dall'azienda attraverso interventi conservativi e di consolidamento, passando per accurate indagini conoscitive e scavi archeologici con raffinate e innovative soluzioni che non si fermano a recupero, ma che allungano la vita a questi preziosi patrimoni culturali, artistici e architettonici, anche attraverso sistemi antisismici o di controllo dell'aria per proteggere i materiali dalle incursioni del tempo. Oggi dopo anni di esperienze, dopo lavori portati a termine che ci hanno permesso di crescere e migliorarci, sicuramente pensiamo di essere pronti per poter traguardare a qualcosa di anche più grande. Qual è la vostra peculiarità? La peculiarità è un po' culturale sostanzialmente, l'approccio che abbiamo a questi tipi di lavori viene da lontano, noi appartenevamo a un territorio, la Puglia che storicamente ha sempre lavorato con le materie povere, prove del restauro, pietra, tuffi, quindi la nostra manovalanza, i nostri specializzati vengono tutti da un territorio in cui si respira un po' questa specializzazione. Abbiamo fatto di questo un po' una missione, nel senso che ogni lavoro, ogni volta che mettiamo mano a un monumento irripetibile e unico, come può essere il Colosseo o altri interventi che abbiamo fatto, sicuramente lo faccio con un approccio clinico, quasi chirurgico, nel senso che facciamo una fase di studio, di analisi, di confronto con altre discipline, coinvolgiamo storici dell'arte, piuttosto che restauratori, tecnici, in maniera tale poi da arrivare alla definizione dell'intervento e quindi poi un approccio dedicato e unico sul monumento.